Bella Rige Marina è l'idea di realizzare sul territorio la cittadella della cultura e per farlo servirà a mettere mano attraverso un percorso di riqualificazione il Palazzo del Turismo che assieme alla biblioteca costituirà il fulcro del progetto voluto fortemente dall'amministrazione comunale. È un progetto per noi molto importante che vede nel cuore della nostra città sviluppare la cultura come fondamento per la comunità tutta e il Palazzo del Turismo insieme all'attuale biblioteca, il palazzo storico in cui è nato il Comune di Bella Rige Marina il Piazzetta Federica Fellini e il Cinema Teatro Astra per noi diventano una cittadella della cultura e nella volontà di creare, di portare Bella Rige Marina al pari di grandi città europee in cui la biblioteca è un polo attrattivo importante che possa sviluppare anche modernamente questi spazi affidati alla cultura abbiamo pensato di mettere a disposizione questo bando che è stato anche riportato da Europa Concorsi che quindi ha la carattura di un profilo nazionale e extranazionale per individuare all'interno di questo palazzo che è stato negli anni il Palazzo del Turismo una nuova rifunzionalizzazione che preveda spazi legati ai giovani, alla cultura, alla biblioteca e ci porti davvero in un contesto europeo con un intervento di un grande profilo culturale arricchire il valore di questa progettualità ci sarà anche la partecipazione cittadina dei turisti e degli abitanti di Bella Rige Marina perché il concorso si concluderà in estate a luglio e i progetti che verranno presentati verranno esposti in una mostra che sarà appunto visitabile da sia turisti che cittadini i quali potranno esprimere anche il loro parere